Apertura straordinaria mattutina per il Luna Park di Viale Marconi. Come da tradizione, anche quest'anno è stata organizzata dall'amministrazione comunale la giornata dedicata ai diversamente abili. Dischi volanti e il resto nulla. Macchinine e moto sulla vacca. Sei contenta o no? Sì, sono contenta. Un momento di feste e di socializzazione fra le giostre. Un appuntamento importante, una giornata diversa rispetto alle altre e quindi cerchiamo in qualche maniera di soddisfare anche i divertimenti per quanto riguarda soprattutto la disabilità. E quindi è una richiesta che viene soprattutto dalle associazioni che come ogni anno abbiamo ben volentieri accolto. Ma tutto questo non è sufficiente per parlare di inclusione. Io sono un pochino la parte polemica perché a volte oltre a questo noi dovremmo dare risposte diverse e nonostante si cerchi di darle nell'inclusione scolastica, per il punto ancora arranchiamo. Si vede che ci manca un po' di personale soprattutto sul sostegno. Quindi benvengano giornate come questa perché sono dovute. Però oltre a queste dovremmo dare risposte tutti i giorni più compiute perché l'inclusione sia fattiva e sia da subito.